Permessi di soggiorno a pagamento, sgominata una banda con base a Napoli, sette persone, tra cui un poliziotto ancora in servizio nell'ufficio immigrazioni della Questura di Napoli e un altro in pensione, sono state arrestate in un'operazione coordinata dalla procura partenopea. Le forze dell'ordine hanno scoperchiato un'associazione per delinquere finalizzata a favorire l'immigrazione clandestina. Ad alcuni indagati si contesta anche il reato di corruzione. Sono state individuate al momento 136 pratiche di rilascio di permessi manipolate, ma per gli inquirenti sono centinaia i documenti illegali che potrebbero essere stati rilasciati nel corso degli anni. Dell'organizzazione in questione facevano parte quattro poliziotti a condurre l'indagine, gli uomini del GICO della Guardia di Finanza, indagine che nasce nel giugno del 2016 da una segnalazione per finanziamento al terrorismo. I controlli del GICO non hanno però fatto emergere riscontri su questa pista, ma hanno permesso di sgominare la banda che in cambio di denaro aiutava extracomunitari, anche privi di requisiti di legge, a ottenere il rilascio e il rinnovo nei permessi di soggiorno. Ad entrare illegalmente in Italia erano soprattutto algerini e tunisini. Ne abbiamo fatti arrivare a migliaia, questa una delle intercettazioni a carico di uno degli indagati. Gli agenti durante le perquisizioni hanno trovato perfino un'agenda con il tariffario, con cifre dai 50 ai 3 mila euro per corrompere i poliziotti. Affare da intermediario tra la banda, personaggi esterni e i poliziotti corrotti, proprio l'ispettore in pensione che quando era in servizio lavorava all'ufficio immigrazione della questura di Napoli.